Questo profumo è così buono! Attente, ragazze! Mi presento la nuova ragazza! Sono così felice di studiare qui! Io sono Michelle! Ecco Skyler, la reginetta della scuola! E queste chiacchierone sono il suo entourage! Ciao! Kylie, smittila! Oh, che mendicante! Benvenuta in classe, siediti! Oh, mi piace questo posto! Oh, il mio libro! Adoro l'ecologia! Ehi, che succede? È il mio posto! Skyler, smittila di comportarti così! Rimettiti a posto! Come desidera, signor Brandon! Non osare calpestare il mio territorio! È uno scherzo? Conosci il tuo posto, nuova ragazza! È la costanza, Michelle! Wow! È così bello qui! Cosa stai fissando? È ora che torni a casa! Trasformerò la tua vita in un incubo! Posso prendere il letto sotto? Certo! Fai come se fossi a casa tua! Oh, che fai qui? Stai oltrepassando il confine! Ah, scusami! Skyler, ora il letto è di una nuova ragazza! Sono sicura che diventeremo amiche! Certo che lo diventerete, Skyler! Non offendere Michelle! Ti tengo ad occhio! Ti sto ancora osservando! Non c'è posto per gli estranei! Bulle! Beh, sicuramente non saranno amiche! Ci penserà domani! È così strano! Chi l'avrebbe mai detto? C'è Skyler anche qui! Oddio! Che sia pazza! Sparisci dalla mia vista! È meglio! Hai visto? Come hai potuto farlo con una foto di Skyler? Ehi! Dico a te! Ti osservo anche quando dormi! Aiuto! Cosa? Hai paura? Non metterti contro di me! Dai, Skyler! Sei la migliore! A lezione di Galateo! Ok, signorine! Oggi imparerete le buone maniere della cerimonia del tè! Tenete il coperchio mentre versate il tè! Così! Ora tirate fuori il mignolo e la mano! È il vostro turno, signore! Mignolo e mano! Perfetto! Ora è il turno di Michelle e Skyler! È perfetto! Ma è così scomodo! Ora si ragiona! Che schifo! Attanna alle buone maniere! È terribile! Terribile! Sì, giusto! Bene, continuiamo! Mettete un tovagliolo sulla ginocchia e colpello nella mano destra e la forchetta nella sinistra! Tagliate il dessert! Ecco qua! Buon appetito! Forza, signore! È il vostro turno! Tovagliolo sulla ginocchia! Scherza! La tovaglia è molto meglio! Ma dove sta andando? Ehi! Che succede? Perché dovrei sprecare il mio tempo quando ci sono un sacco di dolci qui? Adoro la glassa della torta! Signor Brandon, le dica qualcosa! Michelle, esci dalla mia classe! Se lo merita! Piano! Piano! Pensa alle tue maniere! Oh! Oh no! Presa! Nessuno può toccare la mia torta al cioccolato! È un pigiama party! I miei diocri e i poveri non possono stare qui! Bene, ragazze! Ci divertiamo! Gli sfegati non sono ammessi qui! Non voglio stare qui comunque! Ragazze, facciamo una battaglia di cuscini! Mi hai letto nel pensiero! Prendi questo, Skyler! Ti prenderò! Ok, ragazze, ok! Ho chiuso! Voglio giocare anch'io! Anch'io ho un cuscino! Non importa! Vai via! È una festa privata! E il tuo trucco è orribile! Rilassati, ragazza! Che divertimento! Ragazze, state bene? La mia testa! Le hai raminati i capelli! Beh, qualcuno si è impegnato troppo! La 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 la! Non sono stata io! Cos'è stato? La mia mascella! Ragazze, silenzio! O si sveglierà! Questa storia è accaduta in una foresta buia e oscura! Viveva una creatura con zonne giganti! Skyler, smettila di raccontare storie dell'orrore! Poi il mostro ringhiò con rabbia! Ah, è lui! È solo Michelle che è rossa! Sapete cosa? Ho un'idea! Facciamo una sorpresa alla sfigata! Ehi, che succede? Aiutatemi! So chi è stato! Già, testa di letteratura! Mi dispiace di essere in ritardo, signor Brandon! La festa è stata fantastica! Davvero! Guardate lei! Ma come ti sei vestita? Che avete fatto? Le signore per bene non si comportano così! L'armadietto di Kylie nasconde molti segreti! Una foto della sua conta, per esempio! Un giorno sarò la signora Chalamet! Anche l'armadietto di Skyler è pieno di segreti! Ecco di qui! Il mio tesoro! Sei stupefacente! Ciao, Skyler! Ciao, Kylie! Non parlo con le sfigate! Beh, ok! Chi è così dolce e bello qui? Oh, ti voglio tanto bene! Con chi sta parlando? Torno subito! Se n'è andata via libera! Ora sapremo cosa nasconde nel suo armadietto! Addio! È un topo! Perché non sono sorpresa? Skyler, sulla spalla! Aiuto! Ecco a te! Il pranzo è pronto! Toglimi questo roditore di dosso! Michelle, toglilo di dosso! Dai, ragazze! È innocuo! Buon appetito, signor Topo! Benvenuti nel meraviglioso mondo della chimica! Oggi ognuna di voi creerà un aroma unico! Non vedo ora di farlo! Un po' di vaniglia! E una goccia di estratto di gelsomino! Ci sono! Wow, signor Brandon! Vediamo, Jasmine! Ottimo lavoro! Io ho fatto un aroma d'amore! Non è troppo afrodisiaco! Ops, scusa, Skyler! Signor Brandon, guardi qui! Ok, Kylie! Dammi il tuo testo! È fantastico! Dovrei creare qualcosa di veramente valido! Un capello? Grandioso! Una gomma! Un piccolo acino d'uma? Sarà fantastico! Ops! Qualcosa è andato storto! Che odore terribile! Ma si riesce a respirare! Questa non è un'esercitazione! Uscite tutte! Torri! La lezione di chimica si è trasformata in un esperimento pericoloso! Abbiamo neutralizzato la nube tossica! Ho creato qualcosa di unico! È molto brutto, Michelle! Ma signor Brandon! La nostra Michelle perde di nuovo! Oh beh! Toc toc! Nessuno? Momento perfetto per fare uno scherzo alla nuova ragazza! La 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 la! È ora di rinfrescarsi! Un crimine perfetto! Non ne avrai bisogno! Ora scappa! Ehi! Era qui l'asciugamano! Cosa faccio ora? Ho un'idea! Ti piacciono le mie unghie? Che belle! Skyler, perché sorridi così? Ho preso questo dalla vicina di casa! Fantastico! Catturiamo la sua faccia contrariata! Ecco la nostra cenerentola! Michelle, hai preso l'asciugamano sbagliato? È di carta! Basta! Non fatelo! Sembra bello però! Che schifo! Cringe! Perché mi fate questo? 3, 2, 1, forza Orsi! Ok! Miano! 3, 2, 1, forza Orsi! Grande Michelle! Siamo un'ottima squadra! Questo è lo spirito! Dammi pom pom! Ehi! Ma Skyler! Ti faccio vedere io come si fa! Sposta! Sto dimendicando! Forza ragazze! Andiamo! Vi faccio vedere io! Sono Skyler e ballerò! Vai via! State bene ragazze! Ci fa sempre questo! Forza! Proviamo il sostegno! Forza ragazze! Possiamo farcela! Sì! Sono in cima! È la prima volta che ci riesco! È stato fantastico! Non capisci! È solo per la regina! Ok! Siete pronte? Vi mostrerò le mosse! Eccomi! Sono in cima! Ai che male! Smettila Skyler! È fantastico! Oh no! Ti prego Skyler! Sveglia! I soccorsi sono qui! Chi siamo? Una squadra! Cosa vogliamo? Una vittoria! 3, 2, 1! Forza! Orsi! Non lo dimenticherò! Mi hanno lasciato per una sempliciotta! Dovrei essere io sul palco! Ai che male! Vota per noi! Brave! È stato fantastico! Dovrei essere io sul palco! E lo farò! Vedrete! Questo trofeo Truma è vostro! Congratulazioni! Non esiste! Ai! È il mio piede! Sì! È la mia vittoria! È ingiusto! Non mi interessa! Skyler! Siamo amiche! L'hai dimenticato! Dai ragazze! Non c'è niente di cui parlare! Ma io ero la reginetta della scuola! Dai! Non possiamo farlo! Prendilo! È tuo! Non essere triste, Skyler! Scattiamo un selfie vittorioso!